Oggi al BM Blues torniamo a parlare di chitarre super low cost, questa ne è un esempio, sigla! Buongiorno amici e bentornati al BM Blues, io sono Paolino e oggi ritorniamo a parlare di chitarre veramente super economiche, prima di iniziare a parlare di lei come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice alto, non dimenticate la campanellina, tutte queste procedure per voi è gratuito, lo sapete già, ma a me dà la possibilità di far crescere questo canale e portarvi sempre di più strumenti musicali da farvi conoscere, ma soprattutto il salottino blues, portarvi qui al salottino dei personaggi molto molto importanti. Bene, iniziamo a parlare di questa chitarra che come potete vedere, innanzitutto il colore molto bello, Sambar, una copia praticamente della Les Paul Studio, se vogliamo andare un po' nei particolari, la ditta è una ditta Soundstation, questa è la Milestone, una chitarra che mi sta facendo divertire veramente tanto, corpo in mogano, tastiera in palissandro, viene utilizzato un tipo di palissandro che è alle norme che ci sono adesso restrittive sui palissandri, due unbucker Annico 5, ponte fisso, più nometi, come potete vedere, due toni, due volumi e il suo selettore ha tre posizioni, meccaniche pressofuse, beh io ecco, forse questa chitarra l'unica cosa che gli farei è proprio cambiargli le meccaniche, non sono proprio il massimo, ma stiamo parlando di 189 euro, quindi la cifra è molto molto bassa, la chitarra però è veramente fatta bene, i tasti sono messi giù veramente bene, il manico è un C, ma devo dire verniciato, non è satinato, molto bello da utilizzare, i suoni fanno il loro, è un bellissimo suono, questa chitarra insomma mi fa divertire sul clean si difende veramente molto molto bene, se gli diamo un po' di carattere è un po' di carattere è un po' di carattere beh insomma è divertente, fate conto che la registrazione è fatta microfono e amplificatore quindi qualche pedalino, ma tutto analogico, giusto per farvi sentire questa bella chitarrina non ha il top, è proprio come una studio, quindi è veramente una chitarra molto accattivante per iniziare a studiare questo tipo di strumento, cioè la chitarra elettrica, chi vuole passare dagli studi della chitarra acustica e vuole iniziare ad approcciarsi su una chitarra elettrica, questa chitarra con 189 euro si porta a casa, insomma una chitarra veramente interessante, molto molto bella, io l'ho provata con diversi suoni, con clean, crunch, anche sul distorto abbastanza potente, si fa veramente, difende bene insomma grazie a tutti grazie a tutti sentite anche sul clean, è chiaro gli ho messo un filo di chorus per renderla più ambient, però è una chitarrina che ripeto molto divertente, una cosa che farei seriamente, forse per uno che vuole investire qualche soldino, mi cambierei le meccaniche per avere una tenuta sull'accordatura un po' più stabile, con queste non è proprio perfettissima, però ripeto, da Fiber, strumenti musicali, la trovate a 189 euro, spedizione comprese, setup eccetera, insomma il suo prezzo è fantastico, veramente, costa veramente poco, verniciata veramente bene, colore veramente molto bello, beh insomma se vi è piaciuta questa chitarra vi aspetto i vostri commenti sotto qui, e io invece vi aspetto giovedì prossimo per un'altra recensione, amici lunga vita al blues, buon pomeriggio! Ciao! 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 Ciao!